Più di mille abitazioni affittate in nero ai villeggianti è il bilancio dell'operazione Black House condotta dalla Guardia di Finanza di Udine nel corso della stagione estiva nell'area di Lignano Sabbia d'Oro. L'azione operativa è stata orientata alla scoperta di patrimoni immobiliari talvolta cospicui destinati a locazioni turistiche a favore di villeggianti per i quali anche sfruttando la limitata durata dei contratti e l'estemporanea presenza dei locatari spesso stranieri, i proprietari degli immobili non dichiaravano i canoni percepiti. Ad essere individuate 1024 unità immobiliari locate a vacanzieri in contesti fiscalmente evasivi. In dettaglio sono state sottoposte ad accertamenti 10 agenzie immobiliari con sede in provincia di Udine e 396 persone fisiche con un'evasione in materia di redditi di fabbricati pari a 5.566.000 euro, nonché di un'IVA non dichiarata delle agenzie immobiliari per 444.000 euro. Le posizioni più eclatanti emerse sono quelle di un nucleo familiare residente nella provincia di Macerata, che ha allocato completamente a nero 33 appartamenti ricevendo canoni per 226.000 euro, un singolo proprietario di Lignano Sabbia d'Oro che ne aveva 19 e di un altro di Treviso con 10 appartamenti sempre a nero.